Professor Tommaso Trombetti, Università di Bologna, professore di tecnologia e delle costruzioni, abbiamo affrontato il tema molto importante del recupero del patrimonio esistente con un sistema innovativo, semplice, affidabile, però questo come si traduce, come si è tradotto dal prototipo alla realizzazione effettiva, anche a livello poi industriale e di proposizione su quello che è il mercato di questo sistema? Quindi è una realtà che si è ben articolata ed è ben presente sul territorio, se ce lo puoi spiegare? Assolutamente sì, è chiaro che i concetti di cui si parlava prima, il cambio di paradigma, andare a ragionare con delle pareti in cemento armato che vanno ad avvolgere l'edificio esistente, sono delle belle idee che però senza delle aziende, senza uno sviluppo tecnologico, rimarrebbero nel mondo diciamo accademico. Proprio in questo caso specifico noi negli anni abbiamo collaborato con diverse aziende, mettendo a punto ad esempio quello che il sistema cosiddetto Sismacot, che consente la realizzazione con un solo passaggio, quindi senza costi aggiuntivi, di quello che è proprio una parete in conglomerato cemento in sermato che avvolge la costruzione e dal contempo è in grado anche di realizzare quello che è un isolamento di tipo termico. È chiaro che nella messa a punto di questo sistema ci vogliono n competenze, dallo strutturista che concepisce il sistema di adeguamento sismico all'azienda come ad esempio la Ferrymix che ci ha sviluppato un particolare tipo di betoncino che consente la realizzazione agevole di questa parete, ad altre aziende come ad esempio la Wals che ci ha messo a punto quello che è un particolare tipo di cassero a rimanere che fondamentalmente consente il getto del betoncino che va ad avvolgere la costruzione ma al tempo stesso va a provvedere a quello che è un isolamento termico. Non da ultimo il sistema Sismacot che consente un agevole montaggio dei pannelli a ridosso della struttura, il collegamento del conglomerato cementissimo alla medesima. italiane come Sismacot, come Ferrymix, quindi il meglio della produzione con una conoscenza accademica di alto livello ha potuto portare soltanto agli ottimi risultati. Quindi grazie mille, sempre qui su Architecture on Web, diretta da Climaus 2019. Alla prossima, grazie.